Fino al 29 ottobre la sala Carlo V di Castelnuovo ospiterà la mostra personale Sequenze metriche, dune fertili, tagli di luna di Antonio Ciraci, pittore flegreo con un lungo trascorso di impegno politico. Dal 94 al 2000 è stato infatti sindaco di quarto e da più di 30 anni insegna discipline pittoriche al liceo artistico. Il percorso parte da un seme, un alla base della nostra civiltà. Si dice che la città di Napoli nasca da un uovo, quello della sirena partenope e questo seme uovo è l'inizio del mio percorso pittorico. La mostra, inaugurata nel pomeriggio del 5 ottobre dallo scrittore Francesco Escalona, è promossa dalla Fondazione Valenzi col patrocinio morale del Comune di Napoli. Antonio Ciraci racconta questa straordinaria fusione tra alcuni ingredienti, la passione dell'artista per il suo territorio, la volontà di andare fino in fondo, di tornare indietro, fino all'essenza delle cose e in qualche maniera la possibilità e la volontà di fare politica attraverso l'arte. Le vere emozioni profonde, i bambini e i giovani forse le riescono ancora a vivere, il mio discorso pittorico è rivolto soprattutto a loro.